e pur si muove guardate che sorpresa questa mattina a fine agosto finalmente si è deciso di rimettere in sesto la spiaggia dell'Oda e ci sono vedete dei camion è entrata una luspa qui questa mattina e qui c'è il nastro dei lavori che si stanno effettuando evidentemente finalmente si procede allo sgombero dei rifiuti e di quant'altro appunto rendeva inaccessibile la spiaggia perché era una spiaggia un po' diciamo vessata dallo stato d'abbandono i periodi locali adesso sono stati finalmente liberati dai rifiuti adesso poi vedremo nei prossimi giorni il diciamo la pulizia finale se verrà fatta così come deve essere in una spiaggia libera vedete che laggiù sono stati ammucchiati i rifiuti che adesso verranno portati via e finalmente questa spiaggia tornerà ad essere una spiaggia libera fruibile a tutti e in uno stato che non è quello d'abbandono in cui siamo stati abituati a vederla negli ultimi mesi